Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, buona domenica, come state? Spero tutto bene. Ieri non ci siamo visti perché non c'era chissà che cosa da dire, certo anche oggi non ci sono chissà quali argomenti da sviscerare lato a Juventus, però due giorni senza ritrovarci a fare due chiacchiere sul calcio non mi piaceva e quindi per quanto contenuto anche oggi proviamo a fare un discorsino che va a legarsi ad alcuni giocatori della Juventus che sono stati protagonisti nella giornata di ieri al Mondiale o che saranno protagonisti nella giornata di oggi o nelle giornate future, perché questo Mondiale sta continuando a riservare sorprese. Ci sono due gironi secondo me su tutti che sono più belli degli altri per la situazione di classifica e per quelli che sono gli incastri e appunto uno è quello che ha visto protagonista l'Argentinato che ha perso la partita iniziale con l'Arabia Saudita e adesso ci sarà un Polonia-Argentina che in teoria dovrebbe riuscire ad accontentare entrambe le formazioni, però attenzione perché l'Arabia con quei tre punti lì può dare del filo da torcere, può disturbare abbastanza i piani delle due formazioni e può venire fuori anche una sorpresa dal nulla. L'altro girone molto interessante secondo me è quello tra Spagna e Germania che tra l'altro si affronteranno stasera in una partita che è una carta spettacolare tra due contendenti, tra due squadre che hanno vinto il Mondiale nella nostra epoca per quello che abbiamo avuto l'onore di vedere noi durante i campionati del mondo e attenzione che anche qua con la Germania che ha perso l'esordio col Giappone può venire fuori una sorpresa e magari qualche squadra può già cadere. Poi è ovvio che c'è il Brasile con la Serbia, però c'è stata una sola partita disputata in quel girone e c'è stato proprio lo scontro diretto tra le due, ci sta che la Serbia sia a zero punti ultima nel girone però non è finita qua, dico Serbia appunto perché Blaovic e Kostic fanno parte della Serbia però ieri alcuni giocatori della Juventus sono scesi in campo e sono risultati decisivi e quindi vorrei cercare di parlare anche un attimino di questa cosa qua. Prima di tutto però voglio farvi vedere queste, non ve le avevo ancora mostrate come potete vedere è una bellissima custodia con scritto Juventus e all'interno abbiamo delle cuffie, delle cuffie Bluetooth da utilizzare per tutti i vostri dispositivi se le volete acquistare vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare su Amazon ad acquistarle e tra l'altro con il mio codice sconto TOSEJUVE c'è addirittura un piccolo sconto quindi se le volete per ascoltarvi i miei video o per guardarvi gli highlights dei mondiali se vi siete persi una determinata partita, che ne so, il sabato sera siete fuori non vi siete visti l'Argentina, beh potete ascoltarvi la radio cronaca con queste vi lascio il codice sconto qui sotto. Tra l'altro c'è stata un po' di polemica legata all'esultanza di Lele Adani al gol di Leo Messi al fatto che fosse andato allo stadio con la bandiera, la maglia dell'Argentina io credo che a quei livelli sia abbastanza necessario mantenere un po' di imparzialità poi ovvio che durante il momento live ti viene fuori se preferisci una delle due formazioni se sei particolarmente legato a una determinata città però credo che questo sia stato un discorso nato prevenuto dato che si era andati allo stadio proprio con la maglia dell'Argentina ma questo è un discorso che non ci importa e dicevo, un giocatore della Juventus che è stato protagonista nella giornata di ieri proprio nella partita dell'Argentina è stato Angel Di Maria Dio, protagonista, diciamo così, è stata la spalla del protagonista perché comunque il gol dell'1-0 nasce proprio da un assist di Angel Di Maria verso il minuto 70 che parte dalla destra ed è molto interessante, non so se avete osservato bene il gol perché Di Maria fa esattamente quello che io mi immaginavo potesse fare Di Maria quando quest'estate andavamo a trattarlo e tra l'altro avevo portato un piccolo reel dove nei primi allenamenti Allegri vi ha schierato la Juventus con il 4-3-3 proprio per cercare di dare un'impronta tattica a questa squadra e avevo notato proprio questa caratteristica e cioè Di Maria parte largo a destra Di Maria non è un velocista Di Maria è un giocatore molto tecnico che porta il pallone e poi quando arriva a ridosso dell'area di rigore che cosa fa? Dato che lui è un mancino che gioca a destra cerca di rientrare per liberare il sinistro per una potenziale occasione da gol quindi con un tiro a rientrare un clamoroso tiro a giro, un famoso tiro a giro oppure con un passaggio ma per rendere ancora più efficace il tutto cosa succede? In sovrapposizione Valterzino in questo caso Molina dell'Atletico quindi Di Maria che arriva praticamente al limite dell'area di rigore che si ferma crea lo spazio per la sovrapposizione di Molina questo cosa fa? allarga leggermente la difesa avversaria e in questo modo c'è la possibilità di andare a cercare un altro giocatore e certo vai a cercare l'attaccante che è già in area, è già marcato infatti c'è un bel video su YouTube che è una camera tattica del gol di Messi si può vedere proprio che il Messico aveva portato qualcosa come nove giocatori a difendere al limite dell'area più un attaccante, una mezza punta e un altro attaccante leggermente più in alto e tre giocatori sono su Di Maria e Molina quindi si è già creata superiorità numerica e al limite dell'area c'è uno come Messi che quando fa partire quel mancino tra l'altro lo stop orientato proprio al tiro bellissimo proprio da poesia del calcio a livello tecnico e poi quel mancino lì fa quello che vuole e mi ha gasato devo dire la verità vedere questo gol qua perché l'Argentina era mezza fuori l'Argentina non vincendo ieri sera veramente rischiava di uscire dal mondiale ai gironi e fare una figuraccia con Messico e Arabia Saudita invece è stato un gol tecnico un gol alla Messi un gol creato da due che dovrebbero essere quelli che sulla carta sono destinati a trascinare l'Argentina quindi Messi e Di Maria ripeto Di Maria non ha fatto niente di che perché ha fatto una classica giocata anche abbastanza in surplus ai due chilometri orari però è stata una giocata bella a livello tattico e bella a livello tecnico perché poi Messi ci ha messo tutta la magia quindi un piccolo spunto di riflessione sul gol che secondo me è stato molto molto interessante poi fa gol mi pare Enzo Fernandez per il 2-0 e chiude tutto a pochi minuti alla fine l'altra partita del girone di ieri vede protagonista appunto l'Arabia e la Polonia quindi un girone abbastanza tosto a parte il Messico che in questo momento poverino non se la passa proprio bene però Arabia a tre punti Argentina a tre punti ecco la Polonia che sta dominando il girone e che cosa succede? succede che sull'1-0 per la Polonia gol di Inziriski e Lewandowski c'è la possibilità per l'Arabia addirittura di andare a pareggiarla no? questa partita e quindi dagli 11 metri giocatore dell'Arabia contro Wojciech Szczesny e Szczesny da quanto ho capito ha parato ieri il suo 25esimo rigore in carriera su circa 80 battuti e ieri da quanto ho capito anche qua il telecronista della Rai avrebbe detto che perché ho visto i replay non in italiano che non ha un gran feeling con i rigori ma in realtà Szczesny ragazzi anche solo se facciamo un resoconto mentale dagli 11 metri non se la cava per niente male l'anno scorso ricorderete eravamo partiti male con Szczesny ovviamente intendo che aveva fatto degli errori che avevano portato via dei punti ma sul lungo nella stagione poi aveva tirato fuori delle parate veramente clamorose e anche nella partita di ieri il rigore parato e poi ribattuta che forse è più bella che il rigore parata la ribattuta veramente clamorosa quindi tanta roba per un portiere che proprio due giorni fa qui sul canale avevamo iniziato a raccontare di una volontà della Juventus di guardare al futuro e di cercare di capire quale portiere bloccare abbiamo parlato di Carnesecchia abbiamo parlato di Vicario proprio perché Szczesny va in scadenza e quindi si vuole cercare un altro portiere e poi al mondiale Szczesny ti tira fuori questa doppia parata doppia perla certo contro un'arrabbia però è una rabbia che poteva rendersi veramente molto pericolosa dopo il colpaccio argentina e quindi Szczesny tiene a galla la Polonia e la fa volare tra l'altro a proposito di giovani poi chiudiamo proprio oggi all'Allianz Stadium alla Continassa dovrebbe esserci una riunione per parlare delle seconde squadre in Italia dato che la Juve comunque ha iniziato il progetto Under 23 che ora si chiama Next Gen si sta cercando di capire come ampliare il progetto perché quando c'era stata quella conferenza stampa di cui abbiamo parlato qua sul canale la Juventus aveva fatto trasparire questa volontà di includere anche altre società all'interno del progetto progetto partito solo per la Juve un po' come la squadra femminile la Juve ha guardato con un occhio di riguardo al futuro queste cose fanno sicuramente piacere e quindi magari il prossimo portiere quello dopo ancora non verrà fuori da una trattativa di mercato di programmazione ma magari proprio già dalla seconda squadra della Juventus e niente ribadisco niente di clamoroso a livello di discussioni perché di cosa possiamo parlare però due chiacchiere secondo me fanno sempre bene soprattutto perché oggi abbiamo analizzato bene o male due grandi gesti tecnici messi da una parte e scesne dall'altra però secondo me il bello del calcio sono anche queste cose qua soprattutto per quelli cresciuti come noi la mia generazione degli anni 90 90-2000 in cui l'attaccante e il portiere erano diventati i veri e propri emblemi anche per via di cartoni animati come Olly e Benji dove si andava ad elevare alla massima potenza questa cosa qui e guarda caso proprio il Giappone potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a qualche squadra molto molto favorita addirittura per la vittoria finale vedremo tra l'altro Giappone che sta giocando proprio in questi minuti grazie a tutti grazie a tutti